I Longobardi, il piccolo popolo che ha cambiato tantissimo la storia di una nazione, cioè dell'Italia, è piccolo perché gli storici, insomma, molti studiosi calcolano che siano stati solo 200.000 i Longobardi che sono scesi in Italia verso la fine del VI secolo, 570 e qualcosa. Corrispondevano più o meno al 2% della popolazione italiana dell'epoca. Questi Longobardi, pensate, erano un intero popolo, donne e bambini compresi, era una vera e propria Volkswanderung, cioè una migrazione, come gli storici tedeschi chiamano le cosiddette invasioni barbariche. E com'è possibile, insomma, che solo il 2% di una popolazione riesca a cambiare così tanto i destini di un popolo, di un paese? Beh, fondamentalmente questo è dovuto al fatto che l'Italia dell'epoca era distrutta, sfinita dalle guerre volute da Giustiniano per sconfiggere gli Ostrogoti. Era un'Italia devastata, ma soprattutto un popolo, c'era un popolo, quello italico dell'epoca, che non aveva più voglia di combattere, non aveva più risorse. Era ormai ridotto, insomma, a, come dire, sfinito, ecco, fondamentalmente sfinito. Guardate che non è una novità, nella storia ci sono state varie occasioni per cui piccoli popoli, insomma, sì, piccoli popoli, riescono a prevalere su grandi nazioni semplicemente perché è il momento giusto, diciamo così, trovano l'occasione favorevole. Sono cose che sono capitate nella storia, stanno capitando e capiteranno ancora sicuramente. Allora, sì, stanno capitando, certo, ovvio. Ecco qua, quindi, la nostra prima immagine che dà l'idea della situazione dell'Italia. Quella in... adesso le metto in primo piano, perfetto. Allora, quello in arancione era l'impero che Giustiniano ha, diciamo, ricevuto quando si è insediato sul trono. Invece, quelle in azzurro sono le conquiste di Giustiniano. Conquiste che sembrano qualcosa, appunto, vi avevo già detto, di notevole, stato bravo, complimenti, ecco. Ma il risultato qual è stato? Il risultato è stata un'Italia devastata, come vedete nell'immagine sotto, eh? Un'Italia devastata, un impero impoverito, impoverito perché ovviamente il costo di queste guerre è stato elevatissimo, e l'Italia devastata non è in grado di pagare le tasse e quindi è, come si può dire, motivo di debolezza, non di forza. Questa conquista ha portato all'indebolimento dell'impero bizantino, indebolito tra l'altro dalle lotte contro l'impero persiano dei Sasanidi. Il risultato è appunto un'Italia ridotta in totale miseria, con episodi, vi ricordate, di cannibalismo addirittura. E l'esercito bizantino, ovviamente, era ridotto ai minimi termini. Il risultato è che solo 13 anni dopo che fu finita la guerra tra Greci, cioè i Bizantini, l'impero romano d'Oriente, e i Goti, cioè gli Ostrogoti che dominavano l'Italia, dicevo, solo 13 anni dopo, e non è una coincidenza, appunto, arrivarono i Longobardi, che appunto avevano già combattuto in Italia proprio sotto le insegne di Bisanzio. E quindi probabilmente avevano visto questa Italia che sembrava una preda interessante e soprattutto si erano resi conto della debolezza dell'impero bizantino. Ecco quindi che questi Longobardi scendono in Italia. Ecco qui un'immagine così creativa di un Longobardo, di un duca Longobardo, e il nome Longobardo, tra l'altro, deriva o dalla lunga barba, Long Bird, vi ricordo che nelle lingue germaniche, in inglese, ad esempio, Baird, scritto Baird, appunto, significa barba, Long Bird, se non vado errato, correggetemi se ho sbagliato lo spelling, e poi, oppure, appunto, perché vanno le lance, lunghe lance, vai te a sapere. Comunque erano, come tutti i Germani, erano, come si può dire, nomadi, a cavallo, erano stati, quantomeno, nomadi a cavallo, scendevano dalla Pannonia all'attuale Jugoslavia, più o meno, e, appunto, conquistarono facilmente l'Italia, conquistarono facilmente l'Italia, appunto, perché l'impero bizantino si era indebolito per le conquiste volute da Giustiniano. Erano veri e propri barbari, fondamentalmente, perché? Perché i loro costumi, innanzitutto, sì, i loro costumi erano ancora barbarici, si basavano ancora sulla faida, e, infatti, non avevano leggi scritte. Cioè, l'Italia, che era sopravvissuta, diciamo così, più o meno intatta alle grandi invasioni barbariche del secolo precedente, parliamo di visigoti, vandali, eccetera, nonostante i saccheggi, era comunque unni pure, nonostante tutto, era riuscita a sopravvivere, e a rimanere in una situazione economica abbastanza decente. Solo che arrivano altri barbari che sono, torniamo indietro, praticamente di un secolo. Questi non hanno le leggi scritte e, inoltre, sono, come i barbari precedenti, sono ariani. E quindi è difficile la fusione, questo rende difficile la fusione e l'integrazione di questo piccolo popolo con il resto degli italici. Italici, notate bene, uso il termine italici, perché per dire italiani bisogna aspettare ancora un paio di secoli. Quando ci sarà la fusione tra Longobardi e italici, cioè i romani, o meglio, gli italiani romanizzati, gli italici, le popolazioni italiche romanizzate, ebbene, quando ci sarà questa fusione, allora si può parlare di popolo italiano, propriamente detto, che in pratica è la fusione dell'elemento romanizzato, romanizzato, cioè le popolazioni pre-romane, come etruschi, greci, galli, sì, galli della pianura padana, eccetera, greci del sud, amalgamati sotto il dominio romano, romanizzati, latinizzati, e mescolati con i latini, che erano numerosi dal punto di vista demografico, dicevo, quando questa componente si fonderà con la componente minoritaria, ma dominante, dei Longobardi, avremo appunto la nazione italiana, la nascita dell'Italia. Allora, che cosa conquistano i Longobardi? I Longobardi conquistano essenzialmente i territori che, diciamo così, non sono per loro semplici per quanto riguarda il mare. Ecco, il mare. La differenza rispetto alla cartina che avete sul libro a pagina 95 è la Liguria. Inizialmente la Liguria era rimasta in mano ai bizantini, ma poi fu persa. Cos'è che stavo dicendo? Aspettate che mi prendo anche un appunto su sta cosa, perché nella verifica devo essere preciso. Allora, stavo dicendo... Stavo dicendo, stavo dicendo... Ah, sì, sì, sì. Allora, dicevo appunto che... Lasciano, ecco, più semplice così. Cosa rimane in mano ai bizantini o all'impero romano d'Oriente? Bene, rimangono i posti, diciamo, le zone collegate con il mare. Fondamentalmente, perché i Longobardi vanno a cavallo, i bizantini sono padroni ancora del Mediterraneo. E quindi, ovviamente, le isole, le penisole, come quella della Puglia e della Calabria, i porti, altra penisola, l'Istria, e zone di mare e porti come, ad esempio, Napoli, è la sua zona, inizialmente Genova, appunto detto, poi Venezia, che era appunto in questo periodo che nasce, diciamo così, si sviluppa appunto Venezia, sulle sue isolette nella palude irraggiungibile per i Longobardi, e Ravenna con il porto di classe. Inoltre Ravenna, ok, era importante perché era la capitale dell'Italia bizantina. E infine, ovviamente, Roma, perché è la sede del papato, ed era il territorio che i bizantini volevano tenere, perché in un certo modo era una questione di prestigio. E una piccola striscia di territorio che collega appunto le Marche con l'Umbria, Marche e la Romagna con l'Umbria, questo filo, diciamo così, e separa i Longobardi tra quelli del nord e i Ducati di Spoleto e Benevento, che sono praticamente indipendenti. Allora, il libro facendo appunto al nome Romagna, che nasce proprio in questo periodo. Emilia rimane sotto i Longobardi, la Romagna, o Romania, ok, rimane sotto i Romani, cioè i Longo e i Bizantini, chiedo scusa. Allora, l'Italia appunto ne fa le spese, l'Italia è devastata, distrutta. Allora, giusto per dare un'idea di come erano barbarici questi Longobardi che arrivano, abbiamo il famoso episodio di Alboino e di Rosmunda. Questo è tratto da un film che prima o poi guarderò, non ho ancora avuto occasione, adesso me lo segno, eh. Film su Alboino. Film Alboino. Allora, dicevo, qui abbiamo il re Alboino e sua moglie Rosmunda, un matrimonio non d'amore, un matrimonio politico. Infatti, Alboino, che era il primo re dei Longobardi, o meglio, il re che ha guidato i Longobardi alla conquista dell'Italia, come vedete, un bel tipo, no? Bello, proprio allegro, simpatico, piacevole da vedere. Allora, questo signore, appunto, uccise, aveva ucciso suo suocero, cioè il papà di Rosmunda, e le aveva fatto un bruttissimo scherzo, a un banchetto, appunto, Alboino, come si può dire, offrì da bere a sua moglie usando il teschio del padre, lo vedete qua, e appunto dicendo, vieni Rosmunda, tieni, anzi, tieni Rosmunda, bevi in compagnia di tuo padre. Beh, è proprio un umorismo, proprio un simpaticone, ecco. E, tra l'altro, Rosmunda si vendicherà convincendo lo scudiero, diciamo così, di, come si chiama, di Alboino, a farlo fuori, eccolo qua. Questa è un'altra scena, perché poi ci hanno fatto tragedie, spettacoli teatrali, eccetera. Appunto, Alboino, che viene infilzato per avere, come vendetta, per la sua cattiveria, diciamo così. Appunto. Allora, dunque, chi governava veramente presso i Longobardi? Fondamentalmente i duchi. Erano i duchi che comandavano, facevano un po' quello che volevano, un po' come i conti, vedremo, con i franchi. L'autorità del re Longobardo, quindi, non era una grande autorità. E gli italici, che fine hanno fatto? Beh, gli italici, sono stati ridotti quasi in schiavitù, in stato di schiavitù, di servitù. I Longobardi comandavano, i Longobardi erano forti, i Longobardi portavano le armi, i Romani non potevano farlo. E vi ricordo che erano, appunto, ariani, quindi c'era la difficoltà, del, come si può dire, c'erano le difficoltà dovute alla differenza di religione. I Longobardi si proclamano re d'Italia e cingono la corona di ferro, la cosiddetta corona di ferro, che non è di ferro, perché, vedete, è, credo, oro, o rame, non lo so, sinceramente, perché sembra oro, sì, 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 impreziosita da pietre preziose, altre decorazioni, smalti, e vi dicendo. Ma perché corona di ferro? Vedete, qui all'interno c'è questa specie di cerchio, cerchio di ferro, che, secondo la tradizione, è stato ricavato dalla fusione di un chiodo della croce di Cristo. Allora, vi dicevo, prendono la corona di ferro d'Italia, ecco qua, ma i barbari non erano così barbari, infatti abbiamo degli esempi di gioielleria Longobarda, begli esempi, insomma, di una capacità di articolazione, artigianale veramente notevole, questa è la chioccia con i suoi pulcini, in oro, fatta bellina, direi, bellina. Allora, insomma, come si comportano i Longobardi? Si comportano molto male, però, per fortuna, piano piano, le cose cambiano. Quanto passa? Aspetta un po', 584, sì dai, non v'è anche tanto tempo dopo, una quindicina di anni dopo, abbiamo la regina Teodolinda, Teodolinda aveva sposato Autari, non ci interessa Autari, ok, ma Teodolinda era una cattolica, era convertita al cattolicesimo, e in un certo modo convince il suo secondo marito, e qui c'è un errore del libro, ok, perché sembra quasi che sia stato Autari, o meglio un errore, un'omissione, mancata, non sono stati, una imprecisione, ecco, nella spiegazione, niente, fatto sta che Teodolinda convince il suo secondo marito, Agilulfo, se ti dico, beh, i nomi, è chiaro che non sono latini questi nomi, è vero che me ne siete accorti, i latini erano, diciamo, i preti fondamentalmente, i nomi dei personaggi importanti latini erano ancora i preti, i vescovi, eccetera, eccetera, ok, lì si riconosce la distinzione proprio dei popoli, tra i due popoli che non sono ancora fusi, i Longobardi, con quei loro nomi germanici, Agilulfo, ok, Teodolinda, Rosmunda, e che ne so io, Alboino, questa gente qua, ok, hanno, sono nomi che rimangono nella tradizione militare, e invece i nomi dei latini, vengono, li troviamo appunto per quanto riguarda gli ecclesiastici, cioè i religiosi, che sapevano leggere e scrivere, ovviamente. Allora, dicevo, Agilulfo non si converte, se non sbaglio, però converte fondamentalmente il suo, cioè, o meglio, non converte il popolo, dà il suo buon esempio, sì, si converte, lui sì, sì, chiedo scusa, si converte, dà il buon esempio, non obbliga la conversione per non creare problemi a livello politico, però, insomma, è un passo importante, e quindi D'Ariano si diventa cattolico e favorisce il cattolicesimo. Di Agilulfo e Teodolinda si racconta un'altra, o meglio, Paolo Diacono, la storia dei Longobardi, l'Istoria Langovardorum, ricorda appunto la vicenda del bacio. Praticamente Teodolinda era rimasta vedova di Autari, e i Longobardi, i nobili Longobardi, le avevano dato il permesso, diciamo così, di scegliersi un secondo marito, e quel secondo marito sarebbe stato il nuovo re. Questa storia ci ricorda, in un certo modo, Ulisse Penelope, è una coincidenza, non credo che ci sia un vero e proprio nesso. Niente, fatto sta che Teodolinda riceve, diciamo, dei nobili Longobardi che vanno a trovarla, riceve un bacio, il baciamano, mi baciano la mano, la mano, ok, e invece Agilulfo va lì, bacia la mano, e Teodolinda dice, perché mi baci la mano quando potresti baciarmi la bocca? Nel senso che, te ho scelto come nuovo marito. Altro re fondamentale, quindi, i re che dobbiamo ricordare sono, Alboino che è il primo, Agilulfo con Teodolinda, e quest'altro che è Rotari. Rotari cosa fa? Si rende conto che i tempi sono maturi, ed emana, eccolo qui Rotari, con un bel rotolo di carta in mano, si rende conto che i tempi sono maturi per una maggiore fusione, per un incivilimento dei Longobardi, e abbiamo il famoso Editto di Rotari. L'Editto di Rotari, che cosa fa praticamente? È il primo, diciamo, elemento scritto, di legge scritta dei Longobardi, siamo nel 643, quindi ormai, una sessantina di anni dopo le invasioni, o un po' di più, ottantina di anni dopo, sì, 70 anni circa, ebbene, sono passati due generazioni circa, e l'Editto di Rotari è interessante perché mette per iscritto le leggi dei Longobardi, finalmente un passo avanti verso la civiltà, l'abbiamo vista l'importanza delle leggi scritte in prima media ancora, l'abbiamo vista con i babilonesi, il codice di Hammurabi, poi l'abbiamo visto con i greci che vogliono le leggi scritte, i plebei romani che vogliono le leggi scritte, e finalmente arrivano anche i Longobardi, con un leggerissimo, leggerissimo ritardo, nella tabella di marcia della civiltà, allora i Longobardi chiedono, cioè meglio, Rotari emana questo editto, leggi scritte, che ingloba, diciamo, che riguarda i Longobardi, ma che assume, cioè riassume in sé anche dei principi della legge romana, e, importantissimo, è scritto in latino, ecco quindi che anche questo è un elemento che favorisce la fusione, cioè i Longobardi imparano il latino, più che in latino, l'italatino, cioè, o meglio, quella lingua che ormai non è più latino, ma non è ancora italiano. Poi abbiamo Ataulfo, che cosa fa, scusate che sto dicendo, Liutprando, cosa fa Liutprando? Liutprando decide di andare a rompere le scatole al Papa, ok? Eccolo qui, Liutprando, circondato da soldati, ok? E vuole attaccare il ducato romano del Papa, ok? Il ducato romano, perché in pratica, in teoria, sono territori bizantini, ma ormai i bizantini non sono più in grado di difenderli, questi territori, eccolo qua. Questo è il Lazio, il ducato romano, e qui la Pentapoli, cioè con Ravenna, l'esarcato di Ravenna, la capitale, diciamo, dell'Italia bizantina. Allora, i Longobardi di Liutprando attaccano il Papa, ma cambiano idea, cambiano idea, che addirittura Liutprando regala il castello di Sudri, dovrebbe essere nel Lazio, ok? Al Papa. E quindi qui inizia quello che si chiama potere temporale della Chiesa, potere spirituale, quello, cioè la guida delle anime, al quale si aggiunge il potere temporale, cioè del secolo, del mondo, il potere, insomma, politico. Perché Liutprando ha attaccato il Papa? Perché certo, abbiamo detto che i bizantini ormai erano deboli, non erano in grado di difendere, ma perché, ovviamente, deboli già da prima, ma in quel periodo si è aggiunta un'altra invasione. I bizantini, ok, o meglio, i Balcani, che sono questo territorio, che si trova tra il Mar Adriatico e il Mar Nero, allora i Balcani sono stati invasi da un nuovo popolo barbarico, Amoturn, altri popoli che arrivano, e sono gli Slavi. Ok? Eccoli qua. Questi simpaticissimi Slavi, che, diciamo anche loro barbarici, verranno però convertiti al cristianesimo da due santi, che vedremo più avanti anche, che sono San Cirillo e San Metodio. San Cirillo modificò l'alfabeto greco per trasformarlo in quello cirillico, che è stato utilizzato fondamentalmente per tradurre la Bibbia, insomma il Vangelo, nelle lingue Slavi. Allora, dicevo, potere spirituale, potere temporale della Chiesa, potere spirituale, tutto ciò che riguarda appunto le anime, quindi la nomina di un Vescovo, il potere spirituale, il perdono dei peccati, le norme di buon comportamento, di come si deve comportare un buon cristiano, sono tutte cose spirituali, la confessione dei peccati, invece potere temporale è la guida di un esercito, la nomina di un generale, la nomina di un amministratore, la riscossione delle tasse, ok? Mi sembra abbastanza chiaro, non insisterei più di tanto. La Chiesa si basava, e si basa su una certa gerarchia, cioè una catena di comando. Alla base della Chiesa ci sono i preti, i sacerdoti, che vivono nelle parrocchie, parrocchie ad esempio di Bedizzone, per capirci. Sopra ai preti ci sono i Vescovi, che governano le diocesi, cioè le cosiddette province, quelle che chiamano... Diocesi è un termine che abbiamo già visto con Diocleziano, vi ricorderete, quando Diocleziano divise l'impero in quattro parti, l'impero romano. I Vescovi sono noti appunto per avere il pastorale, cioè questo bastone tipo da pastore, come quello di un pastore, che governano i pecorelli, che sarebbero i cristiani. Sopra i Vescovi ci sono i cardinali, i cardinali in origine erano i Vescovi, diciamo così, delle chiese più importanti di Roma, poi sono diventati, diciamo così, dei governatori più, in generale, delle regioni della Chiesa, e indossano la porpora, la porpora cardinalizia, che ricorda la porpora dei senatori di Roma. in un certo modo sono come i senatori, come erano i senatori a Roma, e infatti i cardinali oggi eleggono il nuovo Papa, e il Papa elegge, sceglie i nuovi cardinali, per sostituire quelli che muoiono, perché sono appunto nomina a vita, a meno che non ci siano casi eccezionali. E appunto, in cima a tutto, c'è il Papa, il Papa di Roma, il Papa è tale, perché è il Vescovo di Roma, non perché sia chissà chi, ma fondamentalmente, perché gli viene dato l'incarico di guidare la città più importante della cristianità, che è appunto Roma. I cattolici riconoscono la supremazia del Vescovo di Roma, gli ortodossi, che sono i cristiani dell'Est, diciamo così, non riconoscono la superiorità del Papa, o del Vescovo di Roma, a maggior ragione i protestanti, che vedremo più avanti. Allora, come finisce la storia dei Longobardi? finisce con Re Desiderio, questo è ovviamente un attore, di cui abbiamo la famosissima Croce di Desiderio, che trovate nel Museo di Santa Giulia, a Brescia, ok? È enorme, è bella alta questa croce, quanto sarà? Un metro e cinquanta, anche di più. Bella grossa, non è il massimo della raffinatezza, ok? Appunto, si vede come gli artigiani romani non siano più in grado di creare i grandi capolavori, e tra l'altro, riutilizza pietre preziose, i camei, ok? Di origine romana, perché questo ad esempio è un cameo, 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 andatevelo a cercare, andateveve vedere queste immagini su internet, troverete Croce di Desiderio, vedete i particolari, io più di tanto non riesco in questo momento. Bene, allora, direi che con i Longobardi abbiamo chiuso, sì, vabbè, questo tanti saluti, e ci rivediamo per quanto riguarda i franchi, ok? Sì, Grazie.